E' stato bloccato ed arrestato dalla polizia, mentre in taxi tentava di tornare a Bari, il giovane che questa mattina ha compiuto una rapina all'interno di una filiale della BNL nel centro di Brindisi. Si tratta di Giuseppe Giardino, di 23 anni, entrato in banca, in giacca e cravatta e con una pistola a giocattolo. Secondo quanto ricostruito, ha puntato l'arma contro un dipendente e si è fatto consegnare circa 1.500 euro in contanti per poi scappare a piedi verso la stazione ferroviaria, dove solitamente sostano anche i taxi. Gli agenti della squadra mobile hanno raccolto informazioni e sono riusciti a contattare al cellulare il tassista, al quale hanno chiesto indicazioni, invitandolo a fingere di parlare con la moglie e spiegandogli che aveva in auto un presunto rapinatore. Lo hanno poi raggiunto, fermato e hanno condotto in questura il passeggero, che aveva con sé l'intera somma prelevata.